Tragedia questa mattina a Casamicciola. Ciro Monti, un anziano signore di 83 anni, è morto tragicamente nelle acque sul litorale di Perrone. L'uomo in vacanza di Ischia soggiornava presso l'hotel Stella Maris. Sembrerebbe che un malore lo abbia colto mentre si trovava in mare per una nuotata. Alcuni bagnanti lo hanno nuotato con il volto nell'acqua e preoccupati hanno dato l'allarme. Sul posto sono giunti sanitari del 118, però tutti gli sforzi per strapparlo alla morte sono stati vani. L'uomo era ormai ispirato. Sul luogo della tragedia si sono recati anche i carabinieri, gli uomini della guardia costiera e i vigili urbani. Sembrerebbe che a causare la morte di Ciro Monti sia stato un arresto cardiaco. Per rimuovere il corpo dello sfortunato signore si è poi dovuto aspettare la disposizione del magistrato di turno. Ciro Monti era originario di Casamicciola Terme. Ogni anno era solito trascorrere le sue vacanze nella cittadina termale. Con l'occasione faceva visita ai parenti e alla sorella deceduta lo scorso anno. Ora bisognerà aspettare l'esito degli esami di rito per stabilire la causa certa del decesso.